Un saluto dal Tg della Mobilità. Ancora un appuntamento con il Carnevale domani nelle strade di Roma, proprio nel giorno di Marte di Grasso. A Collianiane si svolgerà una sfilata di carri allegorici, da Via Ruini a Via Sacco in Vanzetti, manifestazione che si terrà tra le 10 e le 17. Nelle stesse ore sei linee bus potrebbero essere deviate, a partire dai collegamenti 075 e 450. Tutte le variazioni nel corso della giornata, sia per la viabilità sia per il trasporto pubblico, si potranno seguire su muoversiaroma.it. Le altre notizie debuterà ad aprile a Roma un nuovo servizio di scooter sharing con veicoli elettrici. E tutto ruota attorno ad uno smartphone, i telefoni cellulari di ultima generazione. Sarà infatti grazie allo smartphone che si potrà prenotare il veicolo e poi metterlo in moto, senza quindi utilizzare né chiavi né card. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nel prossimo Tg della mobilità.